Buongiorno. Il tema di oggi è il passato prossimo. Il passato prossimo si usa per esprimere alcune azioni o fatti del passato più o meno vicino. Federica, ho una domanda. Come si forma il passato prossimo? Giulia, questo devi saperlo. Il passato prossimo si forma col presente di avere o essere col participio passato del verbo. Io sempre ne ho dubbi sull'uso degli ausiliari essere ed avere. Ora spiegherò quando si usa avere quando essere. Avere è l'ausiliare caratteristico per i tempi composti di tutti i verbi transitivi attivi. Cioè i verbi che hanno un oggetto diretto. E di alcuni verbi intransitivi. Questi sono i tempi verbali dell'ausiliare avere indicativo. Dimmi un esempio spiegalo. Il bambino ha finito il gelato. Che cosa ha finito? Il gelato. Abbiamo incontrato Anna. Chi abbiamo incontrato? Anna. Bene. Invece, l'ausiliare essere è caratteristico per i tempi composti dei verbi riflessivi e pronominali dei verbi impersonali e di quasi tutti i verbi intransitivi. Questi sono i tempi verbali dell'ausiliare essere indicativo. Dimmi qualche frase usando un verbo intransitivo. Per esempio, questa borsa è costata molto. Le vacanze sono cominciate ieri. L'ascensore è salito al primo piano. Bravo, molto bene. Inoltre, tra i verbi intransitivi distinguiamo due verbi diversi, i verbi pronominali, che possono essere, i riflessivi reciproci, esprimono un'azione che due o più soggetti compiono o subiscono nello stesso tempo. Per esempio, accusarsi e salutarsi. E, i riflessivi indiretti, dove l'azione verbale non si riflette direttamente sul soggetto, ma si svolge a suo beneficio. Per esempio, lavarsi e vestirsi. Sì, avete capito. Ora passiamo ai verbi riflessivi. Sapete alcun esempio? Io dico, mi sono alzata alle sei. Ci siamo conosciuti un mese fa. Bravo. Ora spiegherò i verbi che usano l'ausiliare essere. Sono verbi di cinque tipi. 1, i verbi indicanti movimento. Per esempio, andare, venire, uscire, salire, arrivare, partire, tornare, entrare, cadere, ma, non lo usano, passeggiare, camminare e viaggiare. Giulia, dimmi alcuna frase. Per esempio, il treno è partito un'ora fa. Siamo andati al mare. Sta bene? Molto bene. Continuo con il punto 2. I verbi indicanti stato in luogo. Per esempio, essere, stare, rimanere, restare, una frase può essere. Renata è restata a casa. Marcello, dimmi una. Oliviero è rimasto in albergo. Bene. Nel punto 3 abbiamo i verbi che indicano un cambiamento nel soggetto. Per esempio, crescere, diventare, ingrassare, dimagrire, nascere, morire, invecchiare, iniziare, cominciare, finire. Una frase per esempio può essere. Mio nonno è morto molto tempo fa. Anche. La festa è finita a mezzanotte. Continuiamo col punto 4. I verbi impersonali. Ci sono di due tipi. I verbi impersonali tipici sono quelli che indicano accadimenti atmosferici. Che verbi sono Giulia? Sono per esempio, annotare, balenare, diluviare, lampeggiare, nevicare, piovere e tonare. Ma, questi verbi usano avere per indicare un'azione durativa, che indica continuità. Per esempio, ha piovuto tutta la notte. L'altro tipo di verbi impersonali, sono i verbi che nella maggior parte dei casi si usano alla terza persona del singolare o plurale con pronomi indiretti. Verbi come, piacere, sembrare, servire, accadere, succedere, capitare, bastare, mancare, interessare e durare. Dimmi una frase. L'Islanda mi è piaciuta moltissimo. Luca mi è sembrato un po' triste. Eccellente bambini. Finalmente, parleremo dei verbi alla forma passiva. Per esempio, il pedone è stato investito dal camion. Con questo abbiamo finito la lezione. Marcello, ancora hai dubbi? Non Federica, tutto è chiaro. Arrivederci bambini. Fino domani. Arrivederla, Federica. Arrivederla. Quattro. Sperba. Trasera. Tagion. Per la sua montagna. Quattro. 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 Grazie a tutti.